martedì 6 ottobre ci troviamo a verona per un workshop di info progetto organizzato da action group editore in collaborazione con l'associazione impianti sportivi si parla delle sfide dell'edilizia del futuro un punto importante per l'edilizia ma anche un'occasione per parlare con le tante aziende del settore delle novità tecnologiche presenti oggi sul mercato e allora vediamo quali sono queste novità con questo servizio che abbiamo preparato importante naturalmente avere un contatto diretto con le imprese con le aziende io devo ringraziare solo la de carlo perché ho conosciuto un'azienda molto attiva molto disponibile un'azienda che conoscevo solo attraverso le riviste diciamo professionali però attraverso la parte commerciale abbiamo avuto un contatto abbiamo avuto un confronto molto importante hanno avuto la disponibilità di accogliermi nella loro azienda quindi da verona mi hanno ospitato nella loro azienda di bari devo dire che ho conosciuto una realtà che non mi aspettavo abbiamo affrontato dei problemi semplici che magari con altre aziende sembravano dei problemi insurmontabili però voglio dire la disponibilità sulla scelta del particolare tecnico o della personalizzazione dell'elemento è stato un piacevole riscontro quindi voglio dire avere aziende di questo tipo che vengono incontro all'esigenza del professionista all'esigenza del cliente sono cosa fondamentale credo all'esigenza del cliente sono cosa fondamentale all'esigenza del cliente sono cosa fondamentale all'esigenza del cliente è un'esigenza del cliente che sono molto fondamentale